Da quello che è emerso dalla ricerca, senza dubbio, c'è una fetta di personale junior che rischiamo di perdere perché comunque non riescono ad avere dei percorsi agevolati anche di formazione di carriera, di presupposti di carriera all'interno dell'azienda. Non possiamo permettercelo perché comunque il personale è sempre di meno e comunque le modalità di ingaggio, le procedure sono molto costose. Quindi assolutamente dobbiamo fare in modo di tenerci i giovani che portano tra l'altro un'energia diversa e anche competenze diverse e importanti. Sicuramente bisogna strutturargli un percorso all'interno dell'azienda già da quando vengono assunti, bisogna comunicargli in modo chiaro e preciso qual è l'immagine dell'azienda e capire bene con loro. Ci tengono molto emerso dalla ricerca i giovani a essere contattati personalmente, quindi sono interessati ad avere un rapporto diretto anche col management e con la direzione e quindi spiegare loro che tipo di percorso professionale possono fare nell'azienda, quali competenze potranno maturare perché poi loro sono anche abituati a cambiare azienda, spesso non si sentono legati al posto fisso come le vecchie generazioni. Quindi comunque per trattenerli bisogna anche dirgli che potrebbero cambiare lavoro, crescere su altre competenze, sviluppare competenze diverse che poi saranno spendibili anche in altri settori. Perché avviare un percorso di coaching dedicato ai dirigenti amministrativi e cosa emerge dall'esperienza di Legnano? Allora a Legnano abbiamo tentato di fare questo esperimento, questo corso di formazione per andare a lavorare su quelle che sono le competenze distintive del coaching, quindi invece di lavorare sulle competenze classiche, il saper fare, il sapere, quindi competenze più tecniche, abbiamo pensato di provare a valorizzare il talento del singolo dirigente e quindi lavorare sul loro potenziale interno, le loro competenze intrinseche perché abbiamo creduto che potessero dare un grosso contributo poi al team, all'azienda e sicuramente è stato un lavoro che è servito al gruppo ma soprattutto è servito alla singola persona perché ha fatto un lavoro su se stesso, ha tirato fuori le proprie competenze e tirando fuori il proprio potenziale, il proprio valore, ha potuto verificare se era allineato con i valori dell'azienda e questo è molto importante perché non possiamo tramite un sistema di premialità o punizione obbligare le persone a fare le cose che l'azienda vuole, in realtà devono sentirselo quindi loro hanno allineato il loro potenziale e poi hanno sviluppato un pensiero più creativo, più laterale e questo perché noi pensiamo che ci sia molto bisogno di creatività e di intuizione quindi la finalità era proprio sviluppare una fiducia in se stessi per portare fuori la loro vision e donarla all'azienda insieme al gruppo è stato molto interessante e secondo me è stato anche molto positivo